Allora, Mireia, all'arrivo della Mountain Attack, una grande prestazione anche oggi? Oggi ho fatto la piccola. Come mai? No, ho ancora male al ginocchio di quest'estate, allora sono in recuperazione. Ho deciso ieri di fare la gara, ma la grande c'era troppo, perché sono in recuperazione. E ieri sera mi sono iscritta sul tour, se è andata bene, non ho avuto male, ma questo inizia ora e la stagione è lunga. Tanto freddo, tanto vento? Soprattutto in quota, nella parte bassa c'era una buona temperatura e buona neve, ma in quota c'era tantissimo vento e dura, durissimo. Salva che è sempre un grande spettacolo, una grande atmosfera. Sì, Salva che è in una gara, un gran ambiente, è per questo che ho deciso di farla ieri, perché c'era qui con la Dina tutta la settimana e mi sono detto che devo andare su Salva perché c'è una grande. Complimenti e prossimi appuntamenti? Domenica abbiamo il campionato spagnolo individuale. In bocca al lupo e alla prossima, grazie. Ciao. Ciao, a voi.